un altro sistema efficace per evitare lo shopping list text è usare le congiunzioni subordinanti la congiunzione è una parte invariabile del discorso che collega due frasi stabilendo un rapporto logico che può essere di due tipi le due frasi sono sullo stesso piano tutte allineate come le famose statue dell'isola di pasqua in questo caso parliamo di paratassi o coordinazione quando le frasi non sono sullo stesso piano ma una dipende dall'altra come succede nell'organigramma di un'azienda allora parliamo di ipotassi o di subordinazione in base al tipo di rapporto logico che esse determinano le congiunzioni possono essere coordinanti o subordinanti sono coordinanti le congiunzioni che collegano due o più frasi ponendole sullo stesso piano come le statue dell'isola di pasqua sono invece subordinanti le congiunzioni che creano un rapporto di dipendenza tra le frasi grazie a tutti